Onorevole Guido Guidesi, il Governo ha chiesto la fiducia sul decreto di Lfare, ha negato quindi la discussione in aula, cosa che la Lega aveva chiesto diminuendo anche il numero degli emendamenti presentati. Noi siamo stati alla proposta del Ministro Franceschini che ha fatto ieri dove richiedeva un ritiro di una parte degli emendamenti presentati. Noi abbiamo scelto di tenere gli emendamenti che ritenevamo più importanti, quelli che potevano andare ad implementare un decreto che dal nostro punto di vista è vuoto, per cui era un momento per dibattere, per andare a rimpinguare un lavoro fatto dal Governo della Commissione che dal nostro punto di vista non era abbastanza. Era un'opportunità, il Governo ha deciso di non darcela e di non darla al Paese. Abbiamo già visto in passato che cosa accade con i governi che chiedono solo la fiducia. Beh, ma più che altro c'è qualcosa in più oggi, nel senso che c'è da vedere quello che accade nelle commissioni che la gente purtroppo non vede. Nelle commissioni anche notturne, la scorsa settimana abbiamo fatto tre sedute notturne di commissioni dove praticamente il PD polimizza al suo interno pubblicamente in commissione. Il PDL è completamente succube delle iniziative del PD e noi stiamo lì ad assistere, perdendo una marea di tempo e non provvedendo invece a risolvere le urgenze. È un Governo che non dà risposte e non riesce a darle all'interno della maggioranza, figuriamoci se riesce a darle al Paese. Ma qual è il giudizio della Lega Nord su questo decreto ormai blindato del Governo Letta? Il giudizio è un giudizio sicuramente negativo, nel senso che il decreto tutto sommato non fa né bene né male. È un normalissimo decreto che va a risolvere alcune situazioni, tra l'altro anche burocratiche, ma semplicissime. Per come l'ha speso, per come l'ha comunicato il Presidente del Consiglio ci aspettavamo una riforma macroeconomica che potesse aiutare le imprese, l'occupazione, i lavoratori eccetera eccetera. Invece ci siamo trovati un decreto che praticamente non dice nulla, se non che il lavoro in commissione, tra cui alcuni emendamenti delle 5 Stelle, dal mio punto di vista l'hanno peggiorato il decreto. E in ultimo, l'ultima notte, ovviamente ci siamo trovati un bel emendamento dei redattori di maggioranza, per cui del Governo, che autorizza una copertura di spesa di 930 mila euro per trovare un fantomatico commissario alla spending review esterno all'amministrazione, dimostrando che per fare la spending review si devono spendere dei soldi, secondo questo Governo, e soprattutto certificando l'incapacità di provvedere alla risoluzione da parte dei Ministri. Ok?